Ciao a tutti e auguri a tutti i papà, a tutti i Giuseppe e a tutte le Giuseppine. Io voglio presentare oggi questo mio lavoro. E' un borsellino, come vedete una borsetta, quello che volete, si possono mettere come in uno precedente ho fatto, si può mettere alla catena oppure si può portare benissimo così. Come vedete a punto V, di cui io sul mio canale YouTube che si chiama Gisa Joe Staccato Comite e si intitola Donna Perla Crea, ho fatto il tutorial. Punto V, come vedete, è così verticale e così orizzontale o come preferiamo, dall'altro là, eccole qua, eccole qua, come si vedono bene. E questo lavoro naturalmente finirà anche in quel canale che vi ho detto, iscrivetevi, vi prego, iscrivetevi e commentate, se o no, mi piace o non mi piace, come vi pare, iscrivetevi, commentate e condividete, insomma, le altre due cose. Eccole, allora, questo lavoro ha il solito attrezzino qui che lo sormonta, la chiusura apertura, che si cuce torno torno in base, col filo trasparente, ecco sulla, che si infila in questi buchetti che sono torno torno e è stato lavorato logicamente prima, col punto di cui vi ho parlato e è veramente carino. Io lo trovo un lavoro, a parte che il punto è molto semplice, ripeto, c'è il mio tutorial su YouTube, è molto semplice ma col cotone così mescolato, o come dicono i francesi in melange, è un defetto, migliora, non è? Allora, con questo vi saluto perché non c'è altro da dire e di nuovo auguri ai papà, ai Giuseppe e alle Giuseppine. Ciao a tutti da Giuseppine.